3. Ogni mattino recava ora regolarmente dei doveri, girare per i negozi, visitare qualche altra zona della città e trascorrere un'ora alla pump room dove le due signore guardavano tutti e non parlavano con alcuno. Mrs. Allen non si stancava di formulare il desiderio di avere molti conoscenti a Bath, sebbene l'esperienza le dimostrasse continuamente, e cioè tutti i giorni che Dio mandava in terra, che non conosceva nessuno. Le due dame si recarono anche alle lower rooms e questa volta la fortuna fu più propizia alla nostra eroina. Il maestro di cerimonie le presentò come cavaliere un giovane molto distinto, si chiamava Tilney. Dimostrava 24 o 25 anni, era di simpatico aspetto, aveva lo sguardo intelligente e vivace e se proprio non era bellissimo, poco ci mancava. Le sue maniere erano cortesi e Catherine ne fu tutta incantata. Mentre ballavano, i due giovani ebbero poca possibilità di parlarsi, ma quando si sedettero per prendere il tè, egli le si rivelò quale essa lo aveva immaginato. Parlava con brio e spigliatezza, e l'arguzia e la giovialità delle sue battute colpivano la ragazza senza che tuttavia ella ci capisse un granché. Dopo aver chiacchierato un po' su argomenti suggeriti dall'ambiente che lo circondava, egli d'un tratto le disse «Ho proprio mancato a tutti i doveri di valiere, signorina. Non vi ho ancora domandato da quanto tempo siete a Bath, se ci veniste mai prima d'ora, se vi siete recata alle upper rooms, al teatro, al concerto e se vi piace questa città. Sono molto manchevole verso di voi, ma sareste ora disposta a rispondere a tutte queste domande. Se è così comincio». «Non vi disturbate per questo, signore». «Non è un disturbo, vi assicuro, signorina». Poi, atteggiando il volto a un sorriso forzato e addolcendo la voce, riprese con affettazione. «Siete da molto tempo a Bath, signorina?». «Da circa una settimana, signore», rispose Catherine sforzandosi di non ridere. «Davvero?», incalzò il giovane con ricercato stupore. «Perché ve ne meravigliate, signore?». «In vero, perché?», disse egli con tono naturale. «Ma si conviene che alle vostre risposte io manifesti una certa emozione, e la sorpresa è più facilmente dimostrabile e non meno appropriata di ogni altro sentimento. Continuiamo. Veniste mai a Bath prima di ora?». «Mai, signore». «Davvero?». «Avete onorato le upper rooms della vostra presenza?». «Sì, signore, vi ero lunedì». «Siete stata all'opera?». «Sì, signore, vi ero martedì». «Al concerto?». «Sì, signore, mercoledì». «Vi piace, Bath?». «Sì, mi piace molto». «Ora si conviene che io sorrida con ricercatezza, e dopo potremo riprendere il tono naturale».» «Catrine giro la testa, incerta se azzardare un sorriso». «Comprendo quel che pensate di me», disse il giovane seriamente. «Farò una pessima figura domani nel vostro diario». «Nel mio diario?» «Sì, e so esattamente quello che scriverete». «Venerdì recatami alle lower rooms». Indossato, vestito, mussola a fiori con nastri azzurri, scarpe nere. Facevo figura, ma stata stranamente infastidita da curioso giovane e mezzo scemo che ha voluto ballare con me e mi ha afflitta tutta la sera con sue sciocchezze. Non scriverò certo queste cose». «Posso dirvi quello che dovreste scrivere?» «Dite pure, vi prego». «Ballato con giovane simpaticissimo, presentatomi da Mr. King, chiacchierato a lungo con lui. Sembra un genio eccezionale. Spero sapere qualche altra cosa di lui». «Questo, signorina, desidererei che scriveste nel vostro diario». «Ma avete pensato che forse non ho un diario?» «Forse voi non siete sedute in questa sala e io non sono seduto vicino a voi. Anche di queste cose è lecito dubitare. Non avere un diario. Come potrebbero le vostre cugine, ora lontane da voi, venire a conoscenza del tenore della vostra vita a Bath se non aveste un diario? Come potreste raccontare le cortesie e le attenzioni che vi sono state usate se non ne prendeste noto ogni sera nel vostro diario? Come ricordereste i vestiti che avete indossato? Come descrivereste i vostri stati d'animo e le acconciature dei vostri capelli ondulati in tutte le loro varietà se non poteste ricorrere al diario?» «Mia cara signorina, non ignoro fino a tal punto le abitudini delle fanciulle ed è la deliziosa abitudine di tenere un diario che contribuisce largamente a formare il bello stile delle lettere per cui le signore sono di solito tanto lodate. Tutti riconoscono che il dono di saper scrivere lettere è particolarmente femminile. La natura può avere la sua parte, lo ammetto, ma sono sicuro che essa è essenzialmente favorita dall'abitudine del diario. Mi sono chiesta a volte, disse Catherine con un'ombra di esitazione, se veramente le donne scrivono meglio degli uomini. Voglio dire, non credo che la superiorità sia sempre dalla nostra parte. Per quanto ho potuto constatare, mi sembra che lo stile delle lettere scritte dalle signore abbia solo tre difetti. Quali? Grande povertà di argomenti, completa indifferenza della punteggiatura e ignoranza quasi perfetta della grammatica. In fede mia non valeva la pena che io respingessi il complimento. Non avete certo a riguardo un'opinione troppo alta di noi. Non voglio dire che le signore scrivono meglio degli uomini come non direi mai che cantano meglio i duetti o disegnano meglio i paesaggi. In tutto ciò che dipende dal gusto, la perfezione è pressa poco ripartita in egual misura tra i due sessi. Furono interrotti da Mrs. Allen. Mia cara Catherine, toglimi per favore questo spillo dalla manica. Temo vi abbia già fatto uno strappo. Mi rincrescerebbe tanto perché è il mio abito preferito, sebbene costi soltanto nove scellini al metro. Esattamente il prezzo che avevo pensato signora, replicò Mr. Tilney osservando la mussolina. Vi intendete di mussolina signore? Me ne intendo moltissimo. Compro sempre da me le mie cravate e sono reputato un ottimo giudice. Mia sorella mi si affida spesso per la scelta dei suoi abiti. Le ne ho comprato uno giorni orsono e tutte le signore che lo hanno visto hanno dichiarato che era una vera occasione. L'ho pagato soltanto cinque scellini al metro ed è una mussolina originale indiana. Mrs. Allen rimase colpita da tanta competenza. Generalmente gli uomini si interessano così poco a queste cose, disse. Mr. Allen non riesce mai a distinguere i miei vestiti l'uno dall'altro. Dovete essere un grande aiuto per vostra sorella? Oso sperarlo, signora. E ditemi, signore, che cosa ve ne pare del vestito di Miss Morland? Delizioso, signora, rispose il giovane esaminandolo attentamente. Ma credo che si sciupi a lavarlo. Temo che il tessuto si diradi. Come potete essere, disse Catherine ridendo, così... stava per dire strano. Sono proprio del vostro parere, signore, replicò a Mrs. Allen. E lo dissi a Miss Morland quando acquistò il vestito. Ma voi sapete, signora, che la mussolina può sempre essere utilizzata. Miss Morland troverà certamente il modo di farsi un fazzoletto, un cappello o un velo. La mussolina serve sempre. L'ho sentito dire tante volte da mia sorella quando ne comprava troppa o quando la tagliava malamente. Batte è un luogo delizioso, signore. Vi sono tanti bei negozi. Purtroppo noi in campagna siamo lontani da tutto. A Salisbury vi sono negozi molto ben forniti, ma è tanto distante. otto miglia. È un lungo andare. Mr. Allen afferma che sono nove miglia. Nove misurate. Ma io sono sicura che non possono essere più di otto. Ed è già una bella fatica. Rincasavo stanca morta. Qui, appena fuori di casa, si possono fare le compere in cinque minuti. Mr. Tilney era troppo educato per non dimostrare interesse a quello che Mrs. Allen andava dicendo. Ed essa lo intrattenne a parlare di Mussolina finché ricominciò il ballo. Catherine, che seguiva la conversazione, temette che il giovane si divertisse troppo con le debolezze altrui. A che cosa pensate così seria? Egli le chiese mentre si incamminavano verso la sala da ballo. A nulla che riguardi il vostro cavaliere, spero, perché dal tentennare della vostra testa arguisco che le vostre meditazioni sono gravi. Catherine arrossì e rispose, non pensavo a nulla. Ecco per certo una risposta abile e profonda, ma preferirei mi confessaste che non volete dirmelo. Ebbene, allora non voglio dirvelo. Vi ringrazio. Impareremo presto a conoscerci perché ormai ho un motivo per canzonarvi tutte le volte che vi vedrò. Non c'è nulla di meglio per rinsaldare un'amicizia. Ballarono di nuovo. Alla fine del trattenimento si separarono col vivo desiderio, almeno da parte della fanciulla, di rivedersi presto. Non ci è dato assicurare se, sorseggiando il grog e preparandosi per la notte, Catherine abbia pensato a Mr. Tilney tanto da sognarlo. Ma in tal caso vogliamo sperare che la visione le sia apparsa solo durante un sonnellino o nel dormiveglia dell'alba. Perché sia vero, come ha affermato un celebre scrittore, che una giovinetta non può decentemente innamorarsi prima che il giovane le abbia fatto la dichiarazione. Sarebbe stato sconveniente per Catherine sognare Tilney prima ancora di sapere se il giovane avesse sognato lei. Fino a qual punto Tilney possedesse le qualità per essere oggetto di sogni o per fare l'innamorato, era un problema che Mr. Allen non si era ancora posto. Egli aveva invece creduto opportuno, fino dal principio della serata, di prendere informazioni sul giovane che ballava con Catherine. E così aveva saputo che Mr. Tilney